I profeti. La vita dei profeti è una profezia. Le parole dei profeti sono una profezia. Di che cosa? L'annuncio del cielo. La profezia non è soltanto, come noi abitualmente pensiamo, come molti pensano, la predizione del futuro. No, quella è un'altra cosa. Quello fa parte, evidentemente, della profezia. Perché? Perché è la conseguenza di ciò che la profezia è, cioè lettura alla luce della fede, alla luce dell'intimità con il Signore, lettura intelligente dei fatti. Cioè, intelligere, entrare, leggere, entro, dentro, trapassare i fatti con la fede. Cioè, vedere dentro i fatti, dentro la realtà, e riconoscere nella realtà l'opera di Dio. E per questo dare una parola, dare una parola profetica. Perché chi ha discernimento, chi sa entrare, cioè chi sa leggere nei fatti l'opera di Dio, sa entrare nei fatti. Può entrare nella realtà. Non scappa dalla realtà. E quindi può facilmente profetizzare, dare una parola chiara, giusta, autentica, credibile, che risponda ai dubbi, che risponda alle domande. O che aiuti, che aiuti ad entrare nei fatti, ad entrare nelle difficoltà, ad entrare nelle sofferenze. Una parola profetica, una parola che ti aiuta a vedere l'opera di Dio, a riconoscere l'opera di Dio, a abbandonarti all'opera di Dio. Per questo può dire automaticamente, il profeta, se fai questo, dirai, se non farai questo, morirai, accadrà questo, 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 questo. Questa è una parola profetica anche sul futuro. Allora, a questi profeti succede qualcosa? A tutti i profeti? A Cristo profeta? Ai cristiani che sono profeta? Che cosa succede? La persecuzione. Ai profeti accade la beatitudine. Ai profeti accade la persecuzione che è beatitudine. Ai profeti accade la povertà, in spirito, cioè l'essere 0,001. Cioè niente, proprio niente. Povero fisicamente e povero nello spirito, cioè povero, tapino, tapino, nulla tenente. All'ultimo posto, disprezzato. Al profeta accade la beatitudine di essere afflitto. Al profeta accade di essere mite, cioè mansueto, cioè ammansito dai fatti, dalla storia. Allora, accade che l'orgoglio sia polverizzato. Al profeta accade di avere fame e sete di giustizia. Quindi vuol dire che non c'è giustizia nella sua vita. Non c'è giustizia capace di saziarlo, non c'è giustizia umana capace di dissetarlo. Quello accade al profeta che vive in mezzo all'ingiustizia. È un operatore di pace. Accade la beatitudine dell'operatore di pace, cioè di colui il quale stende le mani sulla croce. In Cristo, che è il vero operatore di pace, quello che prende su di sé il peccato dell'altro, non la pace questa dei tavolini dove si fanno gli accordi di pace, gli armistizi, sempre a costo di qualcuno. Per cui, quel qualcuno che ci ha rimesso, dopo un certo tempo, si ribella un'altra volta e ricomincia tutto da capo. Questa non è la pace. I contratti che stipuliamo di pace sono anche i nostri divorzi. Un divorzio, in fondo, è un armistizio. Pensateci bene. Non sta parlando il Signore, il Signore sta parlando di Lui, perché tutto questo Vangelo parla di Lui. E Lui è l'operatore di pace. E come? Facendosi uccidere dal nemico. L'unico trattato di pace duraturo è quando ti fai uccidere dal nemico. Altri non ce ne sono. Al profeta, che vive così, ha l'occhio puro, no? L'abbiamo visto. È un occhio purificato dalle lacrime, purificato dalla misericordia, purificato dai fatti, purificato dall'amore impressionante e infinito di Dio. La misericordia, che lo rigenera, lo rigenera e lo genera come? Come misericordia pura. Per questo, ai profeti, accade la misericordia. Accade di essere misericordiosi. Accade di avere una purezza di cuore e di intenzioni, perché il cuore è l'intenzione. Quindi, se c'è una purezza di intenzione, c'è una retitudine di intenzione, tu vedrai Dio. Dio si manifesterà a te, non avrai più cataratte, come diceva Papa Francesco. Allora, fratelli carissimi, questa parola è meravigliosa, perché è la profezia per tutti noi. Cioè, è una parola che è una buona notizia, perché tu e Dio non siamo profeti per nulla. Siamo uomini stretti nella carne. Siamo morti e non possiamo avere nessuna di queste beatitudini. Per questo siamo infelici, stiamo mormorando. Perché? Perché dentro di noi abita il peccato. Il peccato che ha portato alla divisione. Il peccato che ha portato a babele. Lo pensavo oggi, pensando a questo Vangelo, pensavo al giapponese e quanta sofferenza, difficoltà mi provocano tutti questi caratteri. Quando vedo un articolo del giornale, a me che piace leggere il giornale, è impossibile. È impossibile, mi viene lì come un pugno in testa, come un pugno nell'occhio. Perché? Già che non ci vedo bene da vicino, quando vedo questo agglomerato di cangi, i caratteri, mi arrivano in testa. Non capisco, non riesco... Babele, Babele, la divisione, mi faccio un nome. Io, come Dio, il frutto, la Babele, la divisione. Già non capisco più il linguaggio dell'altro, non entro in comunione con l'altro, non posso amarlo. Non capisco quello che mi dice, non capisco quello che dico. E lui non capisce quello che dico io. Tutti caratteri strani che non abbiamo la capacità di decodificare. Per questo parliamo lingue diverse, per questo non siamo felici. È la divisione il nostro habitat, il contrario delle beatitudini. Per questo è necessario un profeta che in mezzo alla divisione, in mezzo alla menzogna, in mezzo al peccato, abbia sperimentato la comunione, abbia sperimentato il perdono dei peccati, abbia sperimentato la risurrezione. Che Dio è più potente, che Dio ha il potere in Gesù Cristo di toccare la tua morte e di strapparti da quella morte. Di perdonare il tuo orgoglio, di perdonarti. Allora, per te è una buona notizia questo Vangelo. A te che sei infelice, a te che non sei beato per niente, a te che invidi, a te e a me che siamo chiusi nel nostro orgoglio, nella nostra menzogna, nei nostri rancori, nelle nostre genosie, nell'attaccamento al denaro. Per noi c'è una buona parola, questa. Sarai beato, beato. Ma perché? Perché Cristo viene a toccarsi con la sua beatitudine. Lui è il beato che ha vissuto in pienezza questo. E viene a toccare oggi con la tua bara, là dove tu hai messo la tua famiglia, là dove hai messo la tua vita, chiusa, senza poter parlare, incapace di comprendere e di intendere i vari cangi con i quali gli altri si avvicinano a te, o meglio, ti allontanano da sé, come tu allontani gli altri. Bene, Cristo arriva e tocca, e che risuscita. Perdona e risuscita la vita nuova. Queste beatitudini sono parole, sono parole nuove. Le parole della Pentecoste, il giorno nel quale gli apostoli parlavano e tutte le persone di vari posti del mondo capivano nella loro lingua quello che dicevano. Quello che loro dicevano arrivava al cuore, la parola dell'amore. L'amore. Allora, è questa la beatitudine. Cioè che tu lasci che i cangi ti coinvolgano. Lasci che l'altro, così com'è, distrugga i tuoi criteri. Che ti rivolti come un calzino, che rivolti la tua vita. Lasciare che la vita, che la storia, che i fatti, che le persecuzioni, che c'è che l'altro, così com'è, che l'ingiustizia, che la storia piena di peccato, che la società, che i fatti, le malattie, tutto quello che noi viviamo, il matrimonio, i figli, quello che sia, vengano su di noi e ci rivoltino come un calzino, perché lì tu sperimenti la felicità. Dice, è allora che sarete beati. Esultate grandemente. Capito? Non quando guadagni, non quando l'altro ti capisce, non quando l'altro è come dici tu, non quando, no, quando hai un successo anche nella missione o quello che sia, no, il contrario, perché lì c'è la verità. In tutto il resto ci puoi essere tu, ci può essere la tua carne, ci può essere... No, quando gli altri ti tolgono tutto, quando gli altri ti denudano, quando tu sei affamato, senza nulla, povero, come Cristo, Cristo sulla croce, lì c'è la vera felicità, lì c'è la vera beatitudine, perché? Perché c'è Lui. Perché tu sei risorto, perché dentro di te esplode. E sai come si apre una voragine e da lì esce tu, le sue ferite, le sue ferite a causa della persecuzione, e lì esce l'amore, esce la misericordia, esce l'amitezza, esce la vita che tu hai ricevuto da Cristo. La beatitudine è essere beati nel beato, essere felici nel felice, essere... vivere la vita di Cristo, vivere la vita risorta di Cristo, che abbraccia chiunque, incontra, che avvolge tutti di misericordia, che stringe tutti nel perdono. Questa è la verità, questa è la felicità, questo non cercare di interpretare o non interpretare. Forse di quei kanji, di quei caratteri, la maggior parte non li capisci, come succede a me. Ma è dare la vita, perché dentro a quel kanji c'è una persona, ci sono giapponesi con il loro carattere, con il loro modo di fare, che è diverso, che non capisci. Dare la vita, dare la vita, dare la vita per chi viene a te con un kanji, non lo capisci, ma se tu lo ami, se hai l'amore di Cristo dentro di te, se sei risorto, in quel momento in cui si avvicina a questo, tu dirai la stessa parola di cui ha bisogno Lui, perché canji o non canji, Lui ti chiede di essere amato. E se tu hai amore, hai vita dentro, eterna dentro, Lui capirà nel fondo del cuore. Allora, se questa è la beatitudine, beati, perché sarete profeti, perché lì appare la profezia, cioè la lettura autentica della storia, che vede in ogni evento l'occasione per amare, che vede in ogni evento Cristo che ti aspetta, perdonarsi con te in Lui, a causa mia, dice, cioè per me, per me e per mezzo di me, in me e con me, per me. Aprire il cielo a questa generazione, questa è la vera beatitudine, tutto rovesciato, il profumo del cielo, la vita del cielo, che sta nei suoi profeti, nei suoi ambasciatori, nei cristiani, in te e in me, risorti, amati, perdonati, rigenerati per essere beati. Grazie. Grazie.